Bonucci contro Allegri, avete sentito le parole dell'ex difensore bianconero? Dopo essere stato uno dei protagonisti dell'ultimo decennio della Juventus, Leonardo Bonucci ha lasciato l'Italia per l'Union Berlino. Il difensore della Nazionale non aveva altra scelta, era stato messo fuori rosa. Trascorsa qualche settimana dal suo approdo in Germania, Bonucci ha voluto dire tutta la sua verità, spiegando in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset realmente come siano andate le cose. Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall'allenatore, ha esordito così Leonardo Bonucci. Non è vero che a ottobre 2022 e a febbraio 2023 mi è stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Ho annusato qualcosa solo leggendolo dai giornali, fino a quando il 13 luglio, Giuntoli e Manna, mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra. Questa è l'umiliazione che ho subito dopo più di 500 partite in bianco-nero. Tutti mi hanno manifestato la loro vicinanza per il comportamento irrispettoso della società. Un finale assurdo che assolutamente non meritava un calciatore del suo calibro. E voi cosa ne pensate?